Quella di oggi è stata sicuramente una mattinata di riflessione importante su un tema che probabilmente, anche vista la crisi congiunturale, la crisi economica, assumerà sempre più importanza. Quello dell'impresa sociale è il segmento più dinamico del no profit. Se guardiamo ai numeri, l'ultimo rapporto Union Camere su dati Excelsior ammette appunto una crescita dell'1% nelle assunzioni a fine 2010 a confronto di una diminuzione dell'1,5% spalmata negli altri settori. È un settore quindi molto importante che sicuramente avrà rilievo e che ha bisogno di queste riflessioni. Il ruolo del pubblico, che cosa si può fare per innovare, che cosa si può fare per recuperare risorse, sono sicuramente delle domande importanti. Qui abbiamo sentito anche delle proposte, come quella della Fondazione Cassieri Sparmio di Torino che parla di un venture philanthropy, appunto un venture capital declinato nei termini del terzo settore. Bisognerà verificare questa sfida, bisognerà verificare questa sfida nel futuro e soprattutto occorrerà tenere presente quella che è una sempre forse troppo grande dipendenza dal pubblico di questo settore. Forse la vera partita per il futuro si gioca proprio su questo terreno.